L'Isola dei Famosi è un programma televisivo italiano di genere reality, versione italiana del format statunitense Celebrity Survivor, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese del 1997 Expedition Robinson, ideata da Charlie Parsons. In onda su Rai 2 dal 19 settembre 2003, al 5 aprile 2012, e su Canale 5 dal 2 febbraio 2015, Francesco Benigno in seguito al video della rissa sfiorata con Arthur, dai nesi mostrata nella puntata dell'Isola dei Famosi ieri sera, durante una diretta Facebook, ha espresso la sua verità. Hanno provato a corrompermi. Mi hanno fatto tre offerte. Fino a 30.000 euro. Le ho rifiutate. Ora vi sputano a tutti. Questa è corruzione. Dopo la trasmissione delle immagini dello scontro tra Francesco Benigno e Arthur, dainese nell'episodio di ieri sera dell'Isola dei Famosi, l'ex naufrago ha tenuto una lunga diretta su Facebook insieme alla moglie Valentina Magazzò, esponendo la loro versione dei fatti. Ha anche lamentato di non aver avuto la possibilità di replicare in diretta le accuse mosse contro di lui durante la trasmissione. La moglie ha accusato il programma di complottare contro di loro fin dall'inizio. Benigno ha inoltre mostrato la foto di un membro del team di produzione, sostenendo che fosse colui che aveva montato il video in modo tendenzioso. Ha concluso esprimendo il suo disappunto per il trattamento ricevuto. E per la mancanza di diritto di replica durante la trasmissione.